Confermata in appello dalla Corte dei Conti la condanna per l'ex presidente della Giunta regionale calabrese Agazio Loiero, coinvolto nello scandalo del cosiddetto rimborsopoli per le spese dei fondi assegnati nel 2011 e nel 2012 al gruppo Autonomia e Diritti in Consiglio regionale. Processo riaperto e nessuna prescrizione per Gaetano Ottavio Bruni, già consigliere regionale proprio con Autonomia e Diritti e già ex presidente della provincia di Vibo Valencia. e per l'ex consigliere regionale Vincenzo Ciconte di Catanzaro. Prescritti in primo grado per danno erariale, la Corte dei Conti in sede di appello ha accolto il ricorso della Procura Generale della Corte dei Conti e riaperto per entrambi il processo, che dovranno quindi ora affrontare difendendosi nel merito delle accuse dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Calabria. A Gazzio Loiero, lo ricordiamo, è stato condannato a pagare alla Regione Calabria la somma di 15.487 euro per danno erariale causato dai rimborsi spesa non dovuti, ristorazioni con ricevute ritenute dai giudici incomprensibili con un timbro apposto in un momento successivo all'emissione della ricevuta, tutte spese non rimborsabili perché non documentate e non rientrate nelle spese di rappresentanza, così come spese sostenute nella capitale e consumazioni occasionali. La Corte dei Conti sostiene anche l'inutilità di altre spese per computer e materiale informatico fatte dallo stesso Roiero, in quanto i consiglieri regionali hanno già locali, attrezzature mobili, macchine ed altri oggetti elencati in separati inventari.